Ah ho sbagliato Ok Progenie, progenie, progenie Regisauro, scheletro Tona Ok Termina Tona Se non usa niente Facciamo castello di Vantress Notalizziamo Gatwick Boomete Boomete Oh E ascoltare i lamenti delle femmine Questo è bene Buonasera nemici miei Sono Sukamikatsu Kun Il vostro sensei altamente scarso E oggi vi porto un Mazzu Dimir Nero-Blu Controllo come al solito Perché a noi ci piace controllare Ma questa volta Ma questa volta Il nostro piano è Principalmente Millare l'avversario E counterare Le sue magie Le sue creature Per poi finirlo Con La nostra win condition Che è la serpe del Lockmare Finalmente Finalmente ho fatto un mazzo Su questa carta Mi piace molto E E E' estremamente forte Come potrete vedere Nel gameplay Più avanti Come posso dire E' forte Però Non so Manca ancora qualcosa Questo mazzo Questo è un mazzo Che sto sperimentando E sto modificando Di volta in volta E Sicuramente C'ha Gli attributi Per vincere Però manca qualcosa E Lo scopriremo Ma nel frattempo Vi porto questo video In cui Vi mostro Un po' Il gameplay E Dicevamo Il piano è millare Perché vogliamo millare Boh Perché E' una win condition Anche Anch'essa E poi perché abbiamo Delle carte Che attivano I loro effetti Se ci sono Carte nel cimitero Dell'avversario Come la gargoyle Il gargoyle Va intressa Che E' un 5-4 Che entra con 2 Quindi ha ottime statistiche Ha pure volare Però non può attaccare A meno che il giocatore In difesa Non abbia 7 O più carte Nel suo cimitero Quindi il nostro obiettivo Principale E' riempire Un cimitero Di almeno 7 carte E possiamo farlo Con la tritona Guarda segreti Che per umana La sua avventura E' un giocatore Bersaglio Mette nel suo cimitero Le prime 4 carte Del suo primorio Quindi Con 2 tritone Già abbiamo soddisfatto La richiesta Oppure con Questa Countess Per qui Non hai detto Per favore Neutralizza Una magia Versaglio Il suo controllore Mette nel proprio cimitero Le prime 3 carte Del proprio primorio Quindi Countereremo La magia E metterà 3 carte Nel cimitero Più la carta Che abbiamo Counterato Quindi Riempiremo In fetta Il cimitero Del nostro avversario E poi Abbiamo Affogare Nel lock Che è una Delle nuove Carte Di Eldraine Secondo me E' molto forte Però E' un po' Macchinosa Da far funzionare Ma Per 2 mana E' eccezionale Perché E' versatile E' un istante Aneo Che costa 2 mana E puoi scegliere Uno La prima opzione Neutralizza Una magia Versaglio Con costo di mana Convertito Pari o inferiore Al numero di carte Nel cimitero Del suo controllore Quindi Più Più carte Ha nel cimitero E più potremmo Counterare Magie Quindi Una volta che Nel cimitero Ha 7-8 carte Possiamo Counterare Quasi Qualsiasi Cosa Qualsiasi Carta Perché Difficilmente Ci saranno Carte Che hanno Un costo di mana Più di 7-8 Però Si ci sono Però La maggior parte Sono molto Inferiore A quello La maggior parte Le più potenti Sono intorno I 4-3-5 mana Noi le andiamo A counterare Per 2 mana Quindi abbiamo Un importante Vantaggio Mana Rispetto al nostro Avversario Che quando giochi Counter Spare È da tenere In considerazione E la seconda opzione È Distrugge una Creatura Avversario Con costo di mana Convertito Pari o inferiore Al numero di carte Nel cimitero Del suo controllore Quindi è anche Sia una Counter Spel Che una Rimozione Nella stessa Carta Quindi È estremamente Versatile E il mazzo Si basa Su questa Carta Sostanzialmente Per funzionare È una Carta estremamente Forte Costa poco Quindi Il nostro Obiettivo È riempire Il cimitero Dell'avversario E Avere un cimitero Dell'avversario Pieno Servirà Alla nostra Serpe Per continuare A ritornare E Anche a quando Andranno A ucciderla Noi Con la sua Terza Abilità Che è Un mana Blu Un mana Nero Due mana Esediamo Cinque carte Avversario Dal cimitero Dei Dei tuoi avversari Riprendi in mano La seppe Del lock Mir Nel tuo cimitero Quindi È però L'unico svantaggio Di questa abilità Che la possiamo utilizzare Solo a velocità Stagoneria Quindi nel nostro turno Quindi È l'unico Difetto Di questa abilità Però se noi Riempiamo Il Il cimitero Del nostro Avversario Di carte Sarà semplice Esiliarne Cinque E Riprendercela In mano E poi Andarla Rigiocare Più avanti Con l'ampo Poi Le altre sue Abilità Sono Sacrifica Un'isola E la serpa Del lock Mir Non può essere Bloccata In questo turno Quindi Tappiamo Un blu Sacrifichiamo La terra Tappata Attacchiamo Non possono Bloccarlo E sono Sette danni In faccia Che Nel giro Di due o tre Turni Ci possono portare Tranquillamente Alla vittoria Il nero Con un nero Sacrifica Una palude Guadagni Un punto vita E peschi Una carta E non avete idea Di quanto possa essere utile Nelle fasi avanzate Questa carta Questa abilità Perché magari Flodiamo E l'avversario Ci sta mettendo pressione E noi recuperiamo Un punto vita E peschiamo Una carta Quindi Estremamente valido E poi Questa è una carta Estremamente forte E' quella che dà Una possibilità A questo mazzo Secondo me Come vedrete Nel video Poi abbiamo Nella storia Che è un'altra carta Che sinergizza Con il cimitero Dell'avversario Costa tre Mana in meno Di base Costa sette Mana Che Sono tanti Ma Tre Mana in meno Se l'avversario Ha sette o più carte Nel suo cimitero Quindi Se avremmo riempito Abbastanza Il cimitero Del nostro avversario Ci costerà Quattro mana A velocità istantanea E pescheremo Quattro carte Che è estremamente Buono Soprattutto per la tipologia Di mazzo Che siamo noi Noi siamo Un po' Un draw Un draw E un go Sostanzialmente Noi peschiamo Non facciamo nulla Aspettiamo che l'avversario Faccia qualcosa Per counterarlo Oppure Se abbiamo magie Stregoneria Da giocare Le giochiamo Ma valutiamo attentamente Dobbiamo gestire bene Il nostro mana Per tenerci sempre aperte Counter Spare E rimozioni Poi abbiamo Il furfante Sfruttato Che è un'altra Win Condition Ci permette di rimbalzare Minacce Dell'avversario E poi lo possiamo usare A velocità istantanea Per tre mana Con Una creatura Lampo Con volare Un 3-1 Che fa abbastanza male Perché E' evasivo E' evasivo E sono tre danni in faccia Se l'avversario Non ha bloccanti Poi abbiamo Tre di cavalcante Omicida Che ci permette Di uccidere Planet Walker E creature Al corso di due punti vita E poi possiamo giocare La creatura Che è un 2-3 Con lifelink Che è un buon bloccante E ci permette Di recuperare vita E quindi Ci tiene Ci tiene Nella partita Poi abbiamo Classico Toggerasio Che funziona bene Con Il riempire Il cimitero D'avversario Perché Un avversario Libera la sua mano E noi Gli facciamo scartare Una carta Non terra E poi abbiamo 4 smorzare Che sono molto buone Nelle fasi iniziali Possiamo counterare Oko Incompany Con due mana E Nelle fasi iniziali Ci Ci fa guadagnare Molto tempo E nelle fasi Più avanzate Abbiamo Sabotaggio sinistro Che countera Qualsiasi cosa E salveghiamo Uno Oppure Non hai detto Per favore Che Countera I milla Quindi Qui abbiamo Uno per di Intuazione Akimimaga Che ci può essere utile Per pescare E vincolo di conoscenza Che È una carta Che sto valutando Anche se le varie Non mi ha convinto molto Ma può essere utile Perché Ogni giocatore Mette nel proprio cimitero Le prime 4 carte Del proprio primorio Quindi Milla Ci automilliamo Anche noi Ma noi ci riprendiamo In mano Fino a 2 carte Istantaneo A stregoneria Quindi Ci migliamo di 4 Ma ci riprendiamo In mano Magari una counter Spell Un pescaggio Una rimozione Vedremo Però È da valutare Ne ho messa una Per il momento Per vedere come Funzionava Questa Diciamo che L'ideale Castarla A quarto turno Quindi La curva Ha più senso Bene Abbiamo detto tutto Vediamo come Performa A marzo Se il video Vi è piaciuto Mettete un like E sottoscrivete E se avete consigli O critiche Da fare Lasciate un commento La vostra opinione È molto importante Vi ringrazio E vi auguro Una buona notte I trample you Mi vuoi Travolgere Carnone Ovviamente È giocatore Stompi Abbiamo Cancellazione Pensiero Abbiamo Gargory Abbiamo Smurzare Non è male Giochiamo Per primi Non ci ho fatto caso Bene Entra tappata Poi mettiamo Magari Castello Di Vantressa Tempio Dalla Rivelazione Grixis O Gescai Molto probabilmente O magari Izet Però Vediamo Adesso Cosa Ci nasconde Il nostro Amico Vai Cancellazione Pensiero Izet Counter Izet Counter Contesa Mistica Con un Manage Counter A qualcosa Di blu E noi Siamo Blu Quindi Toitona Cominciamo A millare Toitona Vediamo Se c'è La Counter Adesso Adesso Ci può Counter Qualsiasi Cosa Perciò Terminiamo Terminiamo Il turno Io lo lasciamo Isola Isola Sette Sette Più Carte Vai Tritona Terminiamo Il turno Vediamo Vediamo Cosa fa Oh Abbiamo pure Il backup Quindi Andiamo Di palude Nessun attaccante Termina Turno Possiamo Scagliare Alla fine Il turno Marinaio Marinaio Spettrale Marinaio Marinaio Nel turno Scagliamo Tritona Affogare Nel lock Ci sta Ok Teniamo La terra In mano Così possiamo Bloccare Nessun attaccante Eterna Ora però Non posso Bloccare Sei carte Nessun attaccante Eterna Eterna se mi sciocco c'ho sia sabotaggio sinistro che affogare nel lock disponibile quindi rischiamo ok guadagni vita mio turno allora attacchiamo tanto vale fare la tritona ok termina turno se non usa niente facciamo castello di Van Tress notarizziamo Godwick bummete Tom con l'avatar di Garucco Garucco Togge Razor non hai detto per favore cavalcante omicida eh servirebbe una counterspell ah giochiamo non siamo Stompy Stompy Stomping Ground Cacciatrice Expert Muzzle Food cancellazione del pensiero vediamo cos'hai amico mio un'altra oca cavaliere l'occa rompe le balle sicuramente il cavaliere il cavaliere è una minaccia mi piace speriamo che non abbia top beccato rocco o qualcosa di spisso se no un'altra oca attacchi con il 3-3 e fai una marea di cibo devo ammazzare quella cacciatrice sacrificchi due cibi e peschi una carta ottimo ok dobbiamo affogare nel lock distrugge una creatura con questa in mano come titolo poi inferiore le carte del suo controllore tu hai una carta quindi non posso ancora usarla come rimozione però adesso posso counterare qualsiasi cosa di malvagio autostia pre-dreamy town ok ho intenzione di giocare qualcosa no assolutamente no bene ora drown the lock può fare la rimozione allora non mi voglio ancora riprendere niente però mettiamo il castello di lock teven e usiamo la tritona ok abbiamo millato un bel po' di roba spissa terminiamo il turno ok va bene ok pesco una carta a giochi mi prendo ancora sti tre danni aspettiamo di vedere cosa gioca giochi qualcosa neutralizza ok abbiamo serpente qua ci andiamo a prendere un mana blu non abbiamo counter spell giochiamo una tritona come bloccante e magari usiamo cavalcante omicida se gioca occo garuk o compagnia vela ok peschi blocca blocca passa mettiamo lo stoppettino lo giochi come creatura ok il mio turno un altro cavalcante vincolo di conoscenza mi costa caro gioco anche io il cavaliere ma si può aiutarmi a recuperare lì magari mi pento perché potevo tenere aperto l'altro cavaliere però vediamo ho un ovetto kinder ok cibo perfetto conca della giungla lupo cattivo vabbè guadagniamo due punti vita nel lupo un problema ok anche tu guadagni due punti vita quench non mi prendi in mano fino a due carte istantaneo mi conviene tenere quench ma lui tanto ha un mana infinito nella storia nella storia affogare nel lock nessuno attaccante nessuno attaccante un altro lupo sacrifichi il cibo sacrifichi il cibo ecco cinque danni cinque danni cinque danni ho sbagliato forse dovevo tenere quench eh non cambiava molto non cambiava molto un'altra mana posso flashare posso flashare la serpe e tenere l'affogare nel lock eventualmente usare il cavalcante omicida termina turno cazzo di ok l'occa mi farà perdere ok c'avevi la rimozione in mano cazzo di ok gg ace racism Easter Racken Beh, abbiamo la Tritone, abbiamo Smorzare, abbiamo Forfante Non abbiamo Autograiser, ma proviamo così Proviamo così Lui gioca per primo Proviamo Proviamo Tieni Ok Tanto non possiamo usare Counter Quindi milliamo Vediamo cosa c'è di bello Ok Carita Necrotica Lavori col cimitero Forse non è una buona idea millarlo Un pre da parudi Isoliamo Un'isola Ok Non è una buona idea Giocare la Tritona Non è una buona idea Non è una buona idea Rimbalzarlo Sto pure da parudi Cosa giochi? Tre mana Giochi niente? Numero 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 Io faccio Counterare Rispega 2 mana Io perdo le carte No Risolvi Cosa mi scarti? Quench Ok Un pre da giochi Altro pre da parudi Ok Insediamo la terra Nero Nero Terminato Se hai altri Poi da parudi Sono fottuto Ok Hai altri numeri Del trapano Hai pompamenti Cose Ok Hai usato tutto A tua mano La serpe Non è il massimo Termina turno Vediamo un po' Cosa fai Cosa giochi E insurre Ok Ok Poi da parudi È fastidioso Sicuramente Blocca Pompi O no Non pompi Vuoi giocare qualcosa di spesso Qualcosa vuoi giocare L'altra palude Il mio turno Ho un altro Umana Blu Meno male Termina turno Nessuno attaccante Termina turno Tocca a te Amico mio Tocca a te C'è qualcosa che puoi fare A velocità istantanea Puoi pompare Poi da paludi Sarebbe un po' inutile Ma puoi farlo Nero Gattino Facciamo nero Ace Rackham Ok 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 Ace Cosa giochi Adesso Qualcosa di Un rank Ci sta Ovviamente C'ha Rimozioni In mano Stanno che non le usi Ok Vuoi risparmiare Ankle Scheletro Nelle fogne Va bene Lo scheletro Io lo rimbalzo Diciamo che non ha creature Che voglio rimbalzare Quindi è meglio Rimbalzargli lo scheletro Che perde tempo A giocarlo Lentissimo Ok Un altro Disticazio di cosi Terminiamo il turno Nessun attaccante Termina il turno Ok 6 mana Puoi giocare Liliana Puoi giocare Qualcosa di Power Sicuramente Scheletro Nelle fogne Lo rigiochiamo Bene Poi Locca Non so se voglio Rimbalzargli Poi da paludi Dipende Quante volte Lo pompa Ok Cosa giochi Ok Il mio turno Furfante Vai È il tuo turno Puoi ammazzarlo Con il cavalcante Omicida Puoi ammazzarlo Immediatamente Ok Bene Se mi sciocco Posso usare Sia il furfante Che Il cavalcante Omicida Ok Ripendi Ciccio Pasticcio Lo rimetti Lì Con la capanna Della strega E poi Ok Rimbalziamo Scheletro E poi Blocchiamo La tritona Eh no La tritona Poi da paludi Ok Se pompi Poi da paludi Te lo ammazzo Ok Non lo pompi Bravo Giochi qualcos'altro Giochi il Scheletro Bene Giochi Numero del trapano Numero del trapano Ok Scegli cosa prendere Ok Ok Serpe Poi Ok Ok Turfante Mi turno Sabotaggio Sinistro Sabotaggio Sinistro Noi possiamo Ammazzare A velocità Istantanea Qualcosa No Non abbiamo Sei mana Terminatura Terminatura Sta cominciando A diventare Pericolosa La cosa Siamo Mana Scuriati Sto cavolo Di preda paludi E' un fastidio Immeso Ci ha Messo Una carta Che non è così male Rompe parecchio Le balle Passa Ok 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 numero del trapano non posso usarlo con una seconda rieve non posso attaccare con quello però distruggi un po' da paludi nessun attaccante attacchi ok sicuro sicuro giochi quello senza costo di coceni ok e poi cancellazione del pensiero non mi serve adesso distruggi lui sono tre punti vita sono messo molto male se c'ha rankle sono morto se top deck ha rankle però non l'ho vista qui nessun attaccante sicuramente se c'ha rankle sono morto assolutamente se c'ha rankle top deck è finita ci serve qualcosa per uscire dal pantano ok ok si è trovato top deck la rimozione al momento giusto muovo il trapano toga rasio ok poi attacchi attacchi ok dunque esilia cinque carte bersaglio esiliamo l'ordine della mezzanotte progedie preda paludi numero del trapano e ferita necrotica e poi possiamo no non possiamo giocarla possiamo però bleffare di avere qualcosa in mano nessun attaccante termina turno se top deck ha qualsiasi cosa siamo morti qualsiasi cosa di di forte e poi possiamo cominciare a sacrificare paludi e guadagnare punti vita ok 15 andiamo a cercare subito una palude avanti e terminiamo il turno possiamo giocarlo con flash quindi non c'è bisogno di giocarlo istantaneamente nessun attaccante che va ieri un problema poi passa ok serpe sacrifica una palude e guadagni un punto vita e pesca la carta ok smorzare nella storia nessuna creatura termina turno mettiamo uno stop al massimo sacrifichiamo un altro palude cavaliere sacrifichiamo il nostro cavalcante così guadagniamo punti vita ok bene mettiamo nel mazzo bene mettiamo nel mazzo lo usiamo a costo pieno lo usiamo a costo pieno ok ok tante terre oh vediamo un po' a cancellazione pensiero cosa ci dice di bello no no cavalcante amicida può essere utile se noi lo peschiamo non possiamo giocarlo no cavalcante amicida può essere utile un giocatore un giocatore bersaglio mette le prime quattro carte nel cimitero per favore aiara rottosauro avanti nessuno attaccante termina turno mettiamo un stoppettino qui passa la tritona si sacrificherà per il bene comune ok grazie del trono per il tuo servigio ok pompato ottimo passa passa bene e facciamo Kimi Maga Kimi Maga e peschiamo due cartine risolvi uh affogare nel lock ottimo il mio turno castello di Vantressa può scagliare dobbiamo ancora stabilizzarci un attimo quindi aspettiamo che paga tutta la sua mana nessuno attaccante termina turno adesso abbiamo due counter spell quante carte hai? nove quindi possiamo counterare qualsiasi cosa per due mana possiamo scartare la tomba d'acqua eventualmente ok attacchi con il cavaliere Allora Blocchiamo E poi usiamo il cavalcante Lo pompi? Bravo Distrugge una creatura Ok, risolvi Passa No, mi spiace Ok, l'hai finita con questi numeri al trapano Cosa giochi? Vuoi ammazzare la serpe? Ok Vuoi giocarlo? Sicuro? No Ok Sacrifica una palude Pesca una carta Ok Mio turno Perfetto Mettiamo Lui E cominciamo A fare male Non hanno nessuno a dettaccio Quindi attacchiamo con la serpe Non attacchi con lo scheletro? Bene Bene, bene, bene E ora Gioca La volante E te la countero al 100% Non esiste che La giocherai A meno che non hai pescato qualcosa di meglio Se hai pescato qualcosa di meglio Ci sta Mettiamo lo stop qui Dipende da cosa fa Sacrifichiamo una palude Sacrifichiamo E magari cominciamo A sacrificare Gli isole O possiamo fare Tutte e due E' un po' costosa La stabilità Però Ok Attacchi Allora In tal caso Scartiamo una tomba E peschiamo Due carte Cancellazione del pensiero Un'altra serpe Bene Questa non è una palude Vediamo un po' cosa C'ha in mano Ok Il volante è quello che mi preoccupa più di tutti Quindi Lasciamo morire la serpe Cancellazione del pensiero Non mi serve per il momento Quanto mana ho? Nessun attaccante Termina turno Cancellazione del pensiero 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 No Bene Un altro cavalcante morto Ok Gioca il tuo cavalcante Hai 16 carte Eh è una rottura di palla Non posso neanche scagliare Cosa posso riprendermi? Il furfante è sfrontato No, non è, non conta con l'abilità Quindi è una carta un po' inutile Posso riprendermi dalle counter Però poi non posso giocare Due Quattro e cinque Non posso giocare La serbe Quindi Un giocatore bersaglio Mette le prime Quattro carte nel cimitero Oh 22 carte E mi rimane Quattro Cinque Sei Sette Mana Per giocare la serbe Nessun attaccante Termina Torna Non posso giocare la serbe scusa ok parliamo con la tritona ok blocca ok cavaliere passa ah ok down in the lock ottimo l'isola ah ho sbagliato ok 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 Progenie, 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 regisauro, scheletro. Blocca. Il mio turno, non peschiamo. Ok, furfante, ottimo. Mi farà guadagnare un bel po' di tempo. Attacchiamo con la serpe. Una creatura. Usiamo la sua abilità. Sacrificiamo un'isola. Non può essere bloccata. Un punto vita. E terminiamo il turno. Abbiamo due win condition in mano. 19 carte. Abbiamo lo stesso nome di carte e noi l'abbiamo millato. Pensa a te. Che partita, mamma mia. Mi sa che il video, farò un video solo con questa partita. Grazie, Acer Haken, per... Ok. Va bene. Però non puoi usare la sua abilità. Ok. Ma muori. Buonmete! Buonmete! Drown in the lock! Oh! No! Oh! 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 Grazie a tutti.